Risiedono infatti nella percezione diffusa che si ha delle donne e dei loro corpi, spesso utilizzati dai mezzi di comunicazione come meri oggetti, oggetti per promuovere la vendita di ogni prodotto. Riemergono queste radici anche negli attacchi, spesso violenti e di natura sessuale, dirette alle donne che ricoprono posizioni di vertice, attacchi che si verificano in maniera massiccia e conferocia anche sul web, da dove fuggono oramai molte voci femminili autorevoli, un tempo attive sui social media.